valdichiana ci siamo siamo prontissimi per la quarta edizione di giardino valdichiana il programma dell'estate come tutte le edizioni passate quest'anno abbiamo scelto una location bellissima ci troviamo tra sinalunga e petroio nella villa di leonardo perché questa scelta perché quest'anno i temi che andremo a raccontare saranno legati alla nostra storia la nostra geografia e soprattutto a un mistero racconteremo anche di alcuni misteri che vengono tramandati e vengono raccontati nel nostro territorio e quindi tante storie della valdichiana tanti personaggi della valdichiana che ci verranno a raccontare appunto la nostra valdichiana quando da venerdì 28 giugno tutti i venerdì a partire dalle 14 in prima visione sulla nostra pagina facebook quindi vietato mancare a giardino valdichiana numero 4